L'ultima bugia che ho detto è una di quelle che dico più frequentemente L'ultima volta che ho fatto una cosa per la prima volta è stato proprio 5 minuti fa che vengo dal corso di recitazione La prima volta che mi immedesimo in questa disciplina, chiamiamola così, la disciplina teatrale Quindi mi sono buttato in questa nuova esperienza Che è quella del teatro e la recitazione e farò anche lo spettacolo Quindi vi chiamo a gran voce a venire a vedermi Che posso? Un segreto inconfessabile? Eh questa ce la pensa un attimo Allora un segreto inconfessabile che adesso sperpererò tutto a gran voce È che dentro lo spogliatoio con i marmocchietti qua dietro ci sono delle regole ferre che vanno rispettate Per farmi rispettare io minaccio chiaramente poi non lo faccio però per far insomma rispettare l'ordine Io minaccio i bimbi che se non rispettano le mie regole io gli spezzo tutti Tutti i cellulari tutte le cose così loro li vedi tutti che tremano che tremano tremano Però alla fine mi rispettano quindi non lo dovrei dire però ormai mi sono non si dice ma ormai il dato è tratto L'ultima bugia che ho detto è una di quelle che dico più frequentemente È quella di dire a tutti che sono rasato e non pelato Perché obiettivamente io sono rasato e non sono pelato Ma andiamo qua per gli altri